Il new normal e il never normal significa che noi non possiamo mai considerarci arrivati. La regola per ogni lavoro e per ogni persona è di mettersi continuamente in discussione, rendersi, allenare i propri muscoli a cambiare continuamente rispetto ad un mondo che si adatta. Si adatta ma migliora. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare con il Festival del Futuro. Non temiate la tecnologia, l'innovazione e il cambiamento perché sono sempre forieri di miglioramenti. Abbiamo tutti gli elementi per dimostrare quello che sto dicendo. L'Italia oggi è in una condizione magnifica rispetto al resto del mondo e sta dimostrando una capacità reattiva rispetto alla pandemia che ci lascia sperare in un futuro eccellente che è esattamente quello che ci meritiamo.